Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio termometro politico di oggi, lunedì 2 ottobre 2023 sulla fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chi risponde no per nulla è il 45,7%, chi risponde no poca è il 12,4%, chi risponde si molta il 25,4%, chi risponde si abbastanza il 16,2%, chi risponde non so è il 0,3%. Se facciamo la somma tra chi risponde no poca e no per nulla abbiamo un 58,1%, la maggioranza assoluta, dice di non avere fiducia in Giorgia Meloni. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.